La Bottega del Pescatore. Dal 2013, esperienza e professionalità al servizio del cliente. Attrezzature, prodotti ed accessori di qualità e adatti ad ogni esigenza, e sempre delle migliori marche. La Bottega del Pescatore è anche riparazione di canne da pesca e mulinelli e vendita di esche vive. La Bottega del Pescatore vi aspetta in via Caccio 88 a Porto Ferraio, Isola d'Elba. Grazie a tutti.